Elezioni a Trapani sempre più nel caos. Con una lettera il candidato a sindaco Girolamo Fazio ha invitato i suoi concittadini a non votarlo al ballottaggio. Nel corso di una conferenza stampa Fazio ha annunciato la decisione irrevocabile di abbandonare la competizione elettorale e di dimettersi da deputato regionale. Ed ha aggiunto che se nonostante ciò dovesse essere eletto rinuncerebbe all'incarico. Sulla sua scelta pesa l'inchiesta Mare Monstrum e soprattutto la decisione della procura di depositare un ricorso contro l'arrevoca dei domiciliari. Il Tribunale del Riesame dovrebbe decidere entro dieci giorni se accogliere l'appello del PM e applicare di nuovo la misura cautelare nei suoi confronti. In ogni caso Fazio rimane uno dei due candidati al ballottaggio anche se invita la città a non votarlo. Questo perché la legge non prevede in nessun caso che un candidato al ballottaggio possa lasciare la competizione. Non è provisto alcun subentro di un eventuale terzo in competizione escluso. Dunque non può ritirarsi formalmente e resta in corsa. Si dimetterà invece da deputato regionale al suo posto l'avvocato Stefano Pellegrino. A Trapani domenica 25 giugno sarà a caso. Potrebbe essere eletto Piero Savona del PD dato per outsider e graziato dall'anomala situazione. Ma dovrà avere i voti. Abbiamo detto infatti che la rinuncia di Fazio è solo sulla carta ed i tapanesi potrebbero votarlo. Se così fosse si dimetterebbe dunque per Trapani, si profilerebbe un commissariamento seguito da lezione alla prima tornata utile, forse a novembre insieme alle regionali o quando saranno le politiche.